Ed è stata Elisa Isoardi ad essere la prima ospite intervistata da Lorella Boccia. La popolare conduttrice ha parlato un po' della sua vita, delle sue esperienze come concorrente a Ballando con le stelle e all'Isola dei Famosi, e ovviamente delle sue storie d'amore. A tal proposito Lorella Boccia ha domandato a Elisa Isoardi a Venus Club se siano vere le voci inerenti a un suo presunto flirt con Raimondo Todaro. E a questo punto la donna non solo ha sentito seccamente, ma ha anche rivelato che tra loro a Ballando non c'è stato neppure un piccolo bacio di scena. Se c'è stato un flirt tra noi, credimi che non c'è stato neppure un bacino di scena, come è successo alle coppie in gara a Ballando con le stelle. Elisa Isoardi a Venus Club da Lorella Boccia ha poi confessato che con Raimondo Todaro c'è comunque stata grande sintonia, rispetto reciproco, ma non è successo nulla di più. Elisa Isoardi a Venus Club parla dell'Isola dei Famosi e di Ballando. Volevo mettermi in gioco. Lorella Boccia a Venus Club ha poi domandato a Elisa Isoardi qual è stato il motivo per cui ha deciso di svestire i panni di conduttrice e iniziare a ricoprire il ruolo di concorrente prima di Ballano con le stelle e poi dell'Isola dei Famosi. E Elisa Isoardi, che ha rivelato di aver avuto paura del giudizio di sua madre sulla sua partecipazione all'Isola, ha dichiarato che si è voluta mettere in gioco. Mi sono voluta mettere in gioco, io ho sempre bisogno di sentirmi battere il cuore, dopo 18 anni di conduzione ininterrotta. Poi bisogna cambiare e mettersi in gioco. Elisa Isoardi ospite a Venus Club sul suo futuro confessa. Domanda difficile. Successivamente Lorella Boccia a Venus Club ha chiesto a Elisa Isoardi se sta già facendo progetti nell'immediato futuro. Ma Elisa Isoardi ha preferito glissare su questa domanda, nonostante i tanti rumor circolati in queste ultime settimane. Domanda difficile. Posso tornare la prossima puntata così te lo dico? E tutti i presenti in studio sono scoppiati a ridere di gusto.